Se servivano prove della consistenza della Globo Info Service Campli, queste arrivano con l'inizio del miniciclo da Tour de Force. Il quintetto farnese schianta senza mezzi termini la bisceglia di coach Domenico Sorgentone con una prova difensiva maiuscola e si regala il secondo posto solitario alle spalle della poderosa Montegranaro. L'appetito viene mangiando e Campli dimostra di non essere sazia per quanto di buono fatto finora e manda un segnale chiaro cioè che vuole restare in quelle posizioni di vertice conquistate a son di vittorie e lasse Serroni Gatti a fare la differenza in particolare in attacco ma poi è tutta la squadra a girare specie nella metà campo difensiva laddove il quintetto pugliese viene letteralmente asfissiato e segna due punti nei primi 5 minuti arriva a 7 al primo intervallo, a 10 al quindicesimo e a 17 alla pausa lunga dopo 20 minuti. La Globo Info Service così ipoteca la vittoria dopo due quarti con gli avversari doppiati 35 a 17 successo poi blindato con un poderoso avvio di terzo quarto che spinge Campli sino al massimo vantaggio di più 27 55 a 28 da quel momento è garbage time che permette a bisceglia di risalire in parte alla china e chiudere la partita con un passivo meno esagerato 66 a 54 alla sirena finale top scorer del pomeriggio è Serroni con 20 punti e 4 su 8 da 3 seguito dai 19 di Gatti da segnalare anche gli 11 punti di Duranti con diti da 6 rimbalzi e 4 recuperi e la doppia doppia di Serafini 10 punti con 12 rimbalzi poco da fare per Bisceglie che porta il solo Potì in doppia cifra 11 punti tirando il 36% da 2 e il 32% da 3 di squadra per Campli ora ha poco tempo per godersi la gran vittoria perché già dopo domani in arriva un'altra gara di quelle toste sul parquet di Sansevero per continuare a inseguire la vetta